Tra i punti all'ordine del giorno d'oggi nel Consiglio Comunale a Sant'Omero c'era anche l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche. Sì, l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche precedentemente approvato perché successivamente all'approvazione abbiamo ricevuto in data 29 giugno da parte della Regione Abruzzo una nota ufficiale con la quale c'è stato assegnato un contributo di 160.000 euro per l'adeguamento messa a nome e sicurezza della Casa di Riposo Carlo Campanini. Lì erano diversi i lavori da eseguire e altri li stavate già eseguendo? Sì, stavamo eseguendo già altri lavori in compartecipazione con altri istituti di credito per quanto riguarda un importo di circa 100.000 euro che vanno ad aggiungersi a queste 160.000 euro. Inoltre sta intervenendo anche la ASP con fondi propri e quindi diciamo che sostanzialmente oggi la mano delle amministrazioni, gli interventi, gli interventi strutturali iniziano comunque a vedersi. Oggi si vede la differenza di una casa di riposo manutentata a differenza di quello che era in passato. Ecco, oggi si vede la differenza, a differenza di quello che era in passato, in riferimento ovviamente all'amministrazione Pompizzi. Sì, questi come altri fondi riportati anche sui volantini, come dire, propagandistici politici che sono stati poi stampati dalla minoranza, riportavano addirittura, si riportava interventi in corso di realizzazione per un milione di euro. Tutti possono vedere che non sono mai stati spesi un milione di euro alla casa di riposo Carlo Campanini. E' una cosa che è stata riportata anche all'attenzione della minoranza in sede di Consiglio Comunale, la quale si è trovata in evidente imbarazzo dovendo riconoscere l'insussistenza del finanziamento e dell'intervento. Comunque, questi soldi sono certi? Con questi soldi la casa di riposo non è più a rischio? No, questi soldi sono certi e con questi soldi la casa di riposo non è più a rischio. C'è ancora altro da fare, stiamo lavorando, però siamo sulla buona strada. In Consiglio Comunale c'è stata anche una comunicazione di servizio relativamente all'ultimazione dei lavori per quanto concerne l'asilo di Sant'Omero, la scuola dell'infanzia. Sì, la scuola dell'infanzia sta andando ad ultimazione, grazie anche alle proroghe che abbiamo avuto dalla Regione Abruzzo. è stata riportata oggi in Consiglio la comunicazione di una nota ricevuta in data di ieri, quindi 29 luglio, dall'ufficio tecnico che rappresentava diverse criticità da un punto di vista tecnico. Quindi non entro nel merito di quelle che sono le linee operative dell'ufficio tecnico che ha fatto le sue determinazioni. In merito abbiamo concertato comunque anche con la dirigenza scolastica alla quale va tutto il nostro ringraziamento per l'attenzione e la disponibilità di trasferire la popolazione studentesca della scuola media temporaneamente presso il nuovo asilo nido per permettere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del plesso della scuola media di Sant'Omero. avremo l'ultimazione dell'opera e quindi la riconsegna del cantiere tra non molto. Speriamo che non ci siano ulteriori imprevisti intoppi.